e rientro dopo il federico ragazzi io guido benissimo tol a sinistra coglione c'è anima sbirri proprio sbirri l'unico sei pazzo secondo me sei pazzo ma sane siamo ben cotto no muoviti c'è guarda non ce l'hai visto il tipo come si porti a casa fai il rettilineo almeno no raga no fai almeno questo rettilineo fai un'versione porco dio fai il rettilineo nel pezzo di monteclaro e basta no raga non chiedetemi questo è da bastardica ma non è da bastardo sei tu un bastardo non andate ancora non andate ancora non andate ancora ancora adesso vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua non andate ancora sempre aspetta questo lo faccio certo il cazzo è qua aspetta 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 non fare il finto coglione aspetta aspetta vieni qua che ce la fai tranquillo lo faccio da sobrio mica perché io te l'ho cotto tiè se metti questo video su youtube ti inculo vieni qua 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 tipo oh, dovevi fare un rettilino sei una merda di amico amici pallati cosìê non ne ho io ero pallati come me non ne ha gli altri c'ai non ne ho bravo po' No, 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 no.